Il SANA per Bologna Sindaco, che cosa è il SANA per Bologna? Per Bologna il SANA è un grande biglietto da visita sul mondo, in particolare per quanto riguarda il tema di nutrire il pianeta e salvare il pianeta, oltre a esporre tutti i prodotti più avanzati dal punto di vista della produzione biologica nel campo dell'alimentare e del cosmetico, ci sono molte altre azioni che sono riconducibili al fatto che per salvare il pianeta, nutrire bene il pianeta, possiamo e dobbiamo fare tutti azioni che ci coinvolgono anche nella nostra vita quotidiana. La fiera e la città sono sempre più vicino, uno organizza, l'altro accoglie, uno accoglie, l'altro organizza, insomma siete ormai un tutt'uno? Sì, è così con la fiera, è così con l'università, è così con la Camera di Commercio, deve essere così ed è così con le fondazioni. Noi dobbiamo sapere lavorare insieme perché poi i risultati si vedono.